Buon salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video che è più che altro il ringraziamento dell'evento che c'è stato la settimana scorsa ovvero il Firefox OS Arduino Workshop a Fabriano in cui voglio ringraziare gli organizzatori proprio il gruppo utente PDP si chiama che si è occupato dell'organizzazione e della preparazione anche di diversi Arduino e dell'aiuto durante il workshop per la parte Arduino e che ha anche realizzato questi simpatici loghi di Firefox in 3D con la loro stampante in questo makerspace quindi il video è più che altro una scusa per ringraziarli per la loro gentilezza e disponibilità può darsi che in futuro faremo altri eventi vista anche la location e la loro organizzazione interna ma questo video è anche la scusa per mettervi in coda un pezzetto di quello che è successo che è la cosa che mi ha fatto più inaspettatamente piacere ovvero di ricevere una torta con il logo di Firefox e di Arduino durante il workshop quindi per chi vuole leggere il resoconto in italiano e in inglese penso che state guardando il video quindi ovviamente in italiano potete fare riferimento in coda qui nel video quindi ancora una volta vi ringrazio gli organizzatori ci vediamo ai prossimi eventi per chi vuole sapere quali saranno i prossimi eventi della comunità di Mozilla Italia vi suggerisco di andare su mozillaitalia.github.io per avere tutti i nostri riferimenti social su internet così potrete rimanere aggiornati su quello che faremo sul territorio nazionale quindi ancora una volta ringrazio e spero che questo programma dedicato a Firefox OS e Arduino abbia avuto diciamo non è che abbia avuto perché l'ha avuto ma ha suscitato molto interesse quindi noi dobbiamo replicare questo programma questa scaletta con questo piccolo workshop anche altrove anche perché il materiale è già tutto pronto e testato e funzionante quindi per chi lo vuole vedere nel resoconto sono tutti riferimenti quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima con i webinar su Skills and More oramai ogni mercoledì alle due e mezza quindi andate sul canale YouTube per chi vuole guardare questi video che sono dedicati a un po' di tutto riguardo il web quindi non solo in ambito Mozilla anche perché è roba di lavoro di questo progetto lavorativo quindi per non dilungarmi oltre vi saluto e ci vediamo alla prossima vi lasciamo una dichiarazione su come è andato questo workshop direi molto bene proprio con la voce quindi vuol dire che è andato molto bene vediamo come procede il workshop vediamo il zucco di questo workshop oh attenzione, attenzione è quello che è intelligente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti